In qualche matrimonio molto swing, costui prende parte a questo spettacolo nel personaggio di Niki Savastano, un ragazzo che crede nei valori del gruppo, un ragazzo a cui piace stare solo, non ama la coppia, è il figo della situazione ragazzi, poi si vede insomma, è un po' come me, un po' vanitoso, a cui piace stare solo, non vuole casini, donne insomma, non quelle fisse. Sai che c'è, la cosa bella è che ci si ritrova dopo sette anni e mezzo insieme ad altri colleghi, con cui abbiamo fatto la bellissima esperienza del talent amici di Maria De Filippi, sono Marina Marchione, Cassandra De Rosa e Angelo Marotta, quindi dopo anni ritrovarsi insieme è stata sicuramente la scintilla che è in più per accettare sicuramente questa proposta da parte della produzione. Cosa mi ha lasciato? Tanto stress ragazzi, diciamo che ti cambia la vita, tanta esperienza, tanti palchi e quindi sono cresciuto sia artisticamente che umanamente, credo, tutto qua. Il sogno nel cassetto è uno spettacolo tutto mio, a cui sto lavorando, un woman show, qui stiamo lavorando. Ma aspettavate? Da uno che gli danno come nome, Niki Savastano ragazzi, dai. E poi vabbè, il sogno nel cassetto è anche Sanremo per ogni cantante. E da Giuseppe Salsetta è tutto, un bacio, ciao.